A presto 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 Anginat Brahma Bannà padegà Tabbàat Karsakogi Isolè vehemme Nihiro Khi Tumhara Direct Nirakar Se connection Nirakar Bàat Kertà Yà Aakar Bàat Kertà Parantham Kya Silence Bàat Khoi bàat Hoti hai Tò Tum Kis Se Bàat Kertà Tum Se Kòon Bàat Kertà Haan Tum Ye Kho Ki Aakar Nih Bàat Ki Accept Keren Nira Kaur Nih Uska Parti Nih Bàat Kerné Ka Eche Jaagou Vahem Se Bhram Se Vahar Niklou Srimat Niraakar Sakar Me Bait Kar Deta Hai Ya Aakar Me Bait Kar Deta Hai Dhyan Me Rakhna Semj Khi Baat Hai Sab Sib Se Pehle Shri Mat Ko Samj Ho Shri Mat Samj Ghi Kab Jib Tumh Shri Mat Dene Waala Samj 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 Khi Baat Samj Phele Shri Mat Dene Waala Ko Samj Korn Shri Mat Dene Samj 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 Jisse Aatma Ki Unnat Hoh Rhe Hoh Hoh Baat Shri Mat Dene Waala Samj 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 Islè Batche Pele Shri Mat Dene Waale Ko Samj Samj Niraakar Aakar Ko Lekar Sakaar Me Bait Ta Phele Aata Jata Tha Abhi Sada Bait Hoh Pehchan Saktte Ho To Pehchan Samj Saktte Ho To Samj Samj Islè Abhi Isse Ghadi Sakaar Ki Shri Mat Ko Neglect Karna Manat Tino Ki Shri Mat Tore Na Mirakar Aakar Sakaar 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 Islè Batche Samaj Kar Or Sambhal Kar Chalou Samaj Kee Samaj Ki Baat non è venuto molto bambini che dice in Murali che dice in Murali che dice anche in Adi che dice anche che ci sono direccte connexion chi è? Do you know how the Paramatma is? Shiv Baba is? Do you do any connection? Do you have no knowledge? non è un lavoro. Quale è la mia mamma? La mamma non può dire che è la mia diretta connexione. In questo caso, la mamma ha detto che è la mia diretta connexione. Do you understand? Questa è la mia, e quindi sto facendo dal bambu, mettere dal brahmi, comandante connexione per farlo. Deve portare con il progetto di bambu, In questo caso, la mamma ha detto che è la mia shirt. Non si vedi a sottotitoli, non si vedi a sottotitoli, tu non si vedi a sottotitoli. Per questo, sottotitoli, come si arriva, i nostri bambini, i nostri bambini sono molto interessati. Questo è un bel problema, non si vedi a sottotitoli, ma anche io. Per io non saliamo alle sogno di этого, ma non servia poi! Solli che ti importa Per questo allora nghi ha downtdo, non serve la qualità. Però sottotitoli senza tentativa. Acc da sottotitoli rigoloni che ti hanno fatto U oh, nono sottotitoli, se essere pot Analysisでき pelo tuo Livare, se non è악i se sottotitoli, non lo capisci, non lo capisci, ci sono sempre che quello che sia stato molto spesso, e si non la capisci, non lo capisci, ci sono un'internetica con l'escalazione di essere con questo, e si è riuscita a te nello che si può essere con il cuore. Il sangue è il sangue, il sangue è il sangue, è il sangue il sangue. Questo è chiaro. Bacchè, brahmanehron, maya bhatkai, maya bhatkai, maya bhatkai, nirakar tu hai, nirakar rup se, eog baar om shanti bole na, tumhi shreer chhodna padega, itni shakti, islele brahmanehron, samaj kar chalo, to shreemat ko samjho, shreemat ko samjho, aur baap jo gyan suna raha hai, uska vichar sagar manthan karo, tum chintan nahi karte hai, manthan nahi karte hai, islelega gyan utarta nahi, samajha hai, tumhi woh bhok pata hai, joo shankar ko chadhaate hai, bhaang kahte hai, bacche, joo banata hai na, uske vichar utartate hai, pene wale ke nahi utartate hai, banane wale ke utartate hai, gyan bhi aisa hai, apni ghoat to nashah chadhe hai, tumhi banana hai, manthan karke, eek hi maha vaakya hai, jitnye manthan karengi, utnye artha niklengi, eek maha vaakya ke, jitnye bachche, utnye artha, kisi orka artha, tumhare kama nahi nahi ae ga, kyunki usmei kisi orke vichar utare hai, isle e apni ghoat to nashah chadhe hai, mahi to bas suna raha hon, mahi to tumhye raha hon, banana tumhye hai, samaj ke baat hai, banana tumhye hai, nashah chadhe ga, lekin vichar saagar manthan karoge, tab nahi karoge, nahi chadhe ga, aapne aap se baat e karoge, shri mat hai, kam se kam, eek ghanta, eek-eek minute karke, 5-10 minute karke, 15 minute, aada ghanta karke, ya eek ghanta karke, aapne aap se baat e karni hai, kam se kam, eek ghanta, shri mat hai, dhyan mei rakhna, aapne aap se mana kis se, swayam aatma se baat e karni hai, usmei aar na ho, tumhahare saath, tumhye baat e karni hai, aapne aap se, swaya kalyaan ki, ki kimi kaha hai, ki kimi kaha hai, kiise bharpour ho sakti hai, kiise sampanna ben sakti hai, aapne aap se baat e karni hai, sanzar piche hai, pehle shri mat, dhyan mei rakhna, sanzar piche hai, kya baat e karni hai, tumhari aur baap ki, mei aur meera baaba, bas doonu ki baat e karni hai, rama bhi na aay bheech me, rama hi nahi hai, to dousare ki baat hi nahi rahi, tumh aur baaba, bas manhi man baat e karni hai, samaj hai, tumh kitna samay baat kar sakte ho, apne aap se, mei aur meera baaba, is topic par, kitna samay kar sakte ho, bichar karo, mei toh kehta ho, aad ghanta baate hoonni chahi, aad ghanta baate hoonni chahi, abhi kya karni hai, uttum jana hai, kandishan e ki hai, tumh aur baaba, rama nahi 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 chahi, sare yug, sara sansar, sari atma hai, rama me hai, abhi karo baat e, aad ghanta baati hoonni chahi hai, aad ghanta baati hoonni chahi hai, pichle jana mei, priya mana, maata pita bhi ho sakte hoonni, pati patni, bachche bhi ho sakte hoonni, mitra bhi ho sakte hoonni, toos ghađi, ghađi dhekhte hoon, jab baate karte hoon, koi bataata hai tumhi, arre, chhe ghande hooi, tab tumhi ho shata hai, arre, baara ghande hooi, aap baate hii karre hoon, tab tumhi ho shata hai, dhekho toh sahi, mai kitna priya hoon, eek ghande se shuruaat ki hai, dhekho toh sahi, kitni bata hai karte hoon, koon si bata hai karte hoon, kya kya bata hai karte hoon, dhekho toh sahi, bachche, maya me hoon, sansaar me hoon, dhekhe tohsi, eek ghande ki shrimat hai, poochhenge, chaat dhoge tup, ki kya bata hai ki, poochhenge, har kisi se, baap priya hai na, abhi dhekhte hai, kitna priya hai, priya se baate karne me, boor nahi hoon ne chahi, manne hoon na chahi, uđhne ka, chhođne ka, abhi dhekho toh se, abhi siddh hooga, doodh ka doodh, pani ka pani, pata chalega, abhi, abhi, tumhe diya shrimat, abhi karun irakar se baate hai, tumhi kehtet hai na, irakar baat karta hai, abhi karke dikhau, rovariyan, karke dikhau, irakar ya akar se, condition yad me rakhna, drama nahi, gyan bhi drama me aata hai, dhekhte abhi tum kya bata karta hai, samaj hai, tarke dikhau, apne aap se bata karo, baaba, aap kitne meethe ho, ham bhi, aap jaisa meetha banenge, ham bhi, aap ke saman, master gyan saagar ban, sab ko gyan dhenge, kisi ko bhi, naraaz nahi karenge, bache, temse koji naraaz to nahhi hoota, tumeha rah kisi ne aapman kiya, harza nahi, ma per cambiare tu non hai fatto nessuno nessuno ha nessuno ha perduto nessuno ha perduto nessuno ha perduto nessuno ha perduto checkerò barche questo gian è tua nessuno ha 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 garante ma tu mai tu magari tu mai che ha il di non hai 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 Non dobbrando farla, ma non dobbiamo farlo, ma tu puoi sensibilizzare a loro, per attraverare a loro, per far longtime, ti puoi取ci farlo inbiettile. Rite Siddh Karni Koshis Kar Rhe Bacchè Aisè Nih Karni Santò Koon Dossero Wrong Therrāya Par Kabhi Unhono Nè Appne Aapko Rite Siddh Karni Ka Pryas Kiyan Chek Karo Bacchè Tum Kya Karthi Brahma Baap Nè Appne Aapko Kabhi Rite Siddh Karni Ka Pryas Kiyan Tum Kya Karthi Tum Kya Karthi Tum Se Kkitne Nairaz Hot Kae Tumhe Pata Tumhe Pata Tum Gyani Ho Ya Gyani Ho ok sei tu sei right non pensavo quindi attraverso quello che ha è attraverso quello che ha è entro perché mi per per il nostro corso barche c'è 4 certificat hai tumhara svem vò toh tum apne aapko dhoghe hi dhoghe tum dhenghe na apne aap thudio apne aapka certificate fail kari hai dousera certificate ishwariya parivar ka hai kya ishwariya parivar ka har sadasya tumse razi hai check kari 90% kumse kum razi hai toh tum 100% paas ho check kari tumhare karam se bol se korn-korn naraazi check kari 90% razi honne chahiye kumse kum 90% se upar niche nahi chalega phir drama ka certificate drama par razi ho che ci sono detto di rama la rama è l'aggasso di rama di rama rama è diventata rama 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 è tutto tutto tu farò rama e d'altro non fare e se sanno i due e sei che ti voglio di un drama l'acquietto ti voglio di un'aggiano ti voglio di un'aggiano e si voglio di un'agdian questo è l'aggiano questo è il drama e se fornessi se penso che il drame vanno a cui si voglio di un'aggiano come si puoi di un'aggiano e come si può essere chi ha detto sitten che la fama non puoi alla stessa ora un giorno ma non vanno per la mente, che io sono proprio il right, io quello che ho detto è proprio il right, ora dice il drama, il padre ha detto che io sono proprio il right, tu sei il wrong, per tutti si dice il drama, ma, quindi si permette di direttamente a tutti i altri, come si reali e staggiamo a fare un'altra parte, non è mai un'altra parte, Scikha, tutti i tipi di portare, quindi poi succede. Entendete? Come si chi ha detto di derramo? che andiamo a prendere la sua visione e poi diciamo va a drama, va a, è la drama tu anche fare qualcosa e diciamo a drama non, bambi tu non è una nattacca, maia, non è un drama tu sei brahmane, behemme ho, jago, checkerò, tu non sei arrezzato, drama che va ad è, l'ultimo certificato, bapka, qu'è bapka ràzi è tu? La parola, è la parola, quando l'inforza, vai a andare a colheria nella sua vita. La parola che nella sua vitaστica in un paese sguardo a colheria, ti ho trovato 100 parola, e che gli hai 100 parola di 100 parola che la passi a colheria. come ti ho fatto quanto risulti, ci sono i risulti del risulto di più che ti sono rasti. Do questo. A qui bisogna anche 90% di lavoro, poi passi finiscono. Nessun certificato 90% di nuovo, non sono non passi. ok, ora ciò che è passato, andiamo a fare il drama. Adesso, il counting del Mars, vediamo, vediamo, chi è passato nel 4 suffici, vediamo, vediamo, veramente una idea da un tari si 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 e si e ti ti si ci ci si ci si hai e Si, mi ha detto in me, bella qui, mi ha senti. Mi ha senti, si senti o non senti. Mi ha detto, vabbiamo a fare. Mi ha senti un po' di tempo. Mi ha senti, si è stato fatto o non? Mi ha senti. o anche quando si chiamo da세요 come in questi mostrani e devo dire come in questo sempre come mi planito a tutti spesso manda velo o si 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 ... ... ... ... Quindi direttamente quando il padre dice, ora il 8 ore è, quindi il padre dice che 10 ore fare una volta di fare una volta di fare una volta di un minuto, di un minuto di dare un minuto dentro di un minuto 10 ore e di 10 ore e di un minuto ti hai fatto quindi 10 ore si lo soffi vediamo 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 che si chiuderebbe che si tratta di farvi di farvi di farvi di farvi. per questo motivo, per questo continuo, per capire e continuo, quindi l'ultima certificazione è il tuo bambino, check cercare le ultime chance per tutti la chance la scremmat e dopo il rama il rame il tuo il tuo il tuo il tuo il tuo non c'è la visione non c'è la visione non c'è la visione ogni persona si resta solita ogni persona si svetlantra quando tu ti dicci a chi ti diccio come questo tu cosa faccio? per il suo lavoro per il suo lavoro per il suo lavoro quindi lui non solle a lui non solle ha detto ha chiamato adesso si è non solle i due ragazzo Il lavoro è pronto, si è pronto, allora fare l'acqua, come se ti senti bene. Il fatto di essere razzati, non è il fatto di essere razzati, non è il fatto di essere razzati. Non è il fatto di essere razzati, non è il fatto di essere razzati. Vi chiede anche perché ci ci sono felici Bapache, ma senza accogli. C'è il mio senso? Per cui non c'è il mio senso? C'è il senso più grande, possiamo arrivare più una bata. C'è il senso di tavolgo della mia, che ha fatto in un senso, che ho scaldato che non ho reasonati se ne Watts sono un dei contabili lo obvio che ho chiamato che ho chiamato che ho hai detto la prima volta la prima volta mi ha detto Do you remember? You listen to me, and do it with your mind. And you say, we have made a shremata. You are in the womb, you are in the brahman. Do you understand? è vero se qualcuno può essere servito la sua vita non poter pensare non poter pensare la sua servita la sua servita la sua servita la sua servita è vero la sua servita la sua servita se questo wrong lo servite condibiscate berse lascia si la servita check gorge e mi chiede con la visione e mi chiede solo un'escrivito solo un'escrivito solo un'escrivito mi chiede cosa che hai senza pensare 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 solo un'escrivito mi chiede e tu hai solo un'escrivito e'e bhi n'i m'lègi chunque tu m'nei mann'me zarur laya harish rimat ke liye e ho ga kiasse karengi aise ho ga ya waisse ho ga kab karengi baba ne bola to hai karna to padhe ga aur koi upaya n'i baha sotsu chalti ahishuddha nahi tu ahaha shirimat paalind karengi na humara udhahar ho jayega jeevan ban jayega hum oonche ho jayega tum shuddh ya shuddh humahare ghanit bade hoote hai ur ghanit bade hoote hai bade sutra bharai dhimag me ghanit ke aur tumhahare sotra se ur ghanit agar sol nahi hoota na to'o tume shrimat paalan n'hi hih karte hai Il gioco è un salto, il gioco il gioco che ti ha avuto il gioco il gioco il gioco il gioco. Eu sei la nostra scatula fì,하cilcipate e consegni. Non ci c'è una scatula con la scatula. Cosa scatula significa scatula,erello собственно brisa localizzato, non riesce, non riesce. Come si avessi di stare da private? Come vediamo, Papa ha detto di studiare le tashe, prendmere la mente, così, che Papa ha detto di studiare i tashe, mescoli che vediamo le tashe di te, guardiamovi tutti gli tashe... A far l'interno della tasse di studiare, e allora ti chiedi a qualcuno che ti chiedi a noi che abbiamo studiare ora facciamo studiare ora facciamo studiare è stato fatto ora facciamo 25% 75% mettiamo studiare non facciamo studiare non facciamo non facciamo 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 se si parlavamo il resto di riso si parlavamo 누uno dice il donato diario,합니다, presento il donato, la scherz del donato prima di dormire, vi ringrazio il donato di dormitore, la scherz del donato, il donato di bambino quello che preghi so sta. Kisi ko, baba, ch scoota. Sul swoimamente. Resto prosti con il suo sistema. ido. Ora riparesอกıyı. Tanto fra le pode niciam reais. Margo? clearance. das murli uri karuso pa mail parò sale drill sale sacaggio mole Die rons che ci puoi connettare a possa essere così qui resta importante in diritto in cui tu si che aviam mangke attravera che il fatto che il fatto il suo corso e quello che abbiamo è che è il tuo cuore è è Si traccia il corpo alla sua destra, si traccia il corpo alla sua azione. Reducati il corpo alla sua destra. D OBJAN DAU. e non ti diciamo di grande cose, che ti faccio molto grande, che ti faccio molto bene, bici 100 anni per la sangem yuga e la una risa è un risa con la risa dobbiamo mettere 100 anni per la risa 8 giorni e la risa è un risa è un risa ma solo di 100 anni per la risa risa per questo motivo, per il suo lavoro di servizio, servizio 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 di servizio di servizio, servizio di 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 servizio dobbiamo di fare qualcosa non dobbiamo fare il bacio ciò che non ciò che ti ti accade non cercherò non cercherò non strumenti dobbiamo anche conoscere fedore l'unità si hanno avuto tutto 15 anni tu hai sottine conoscere conoscere e si si possa apportare conoscere 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 essere in scatti, perché noi conosciamo questa connessione, connessione nella connessione, connessione diceva, verso dà 4 giorni, ci si sciences e la preghiamo nel 4 giorni, Il nostro corso di quattro di quattro di quattro di quattro. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non si può fare un'occhale, non si può fare un'occhale, maia è un'occhale. A tutti i bambini è diventata una buona, quindi bisogna restare in un'occhale. Perchè, se vuoi vivere, perchè. Non bisogna non venire, bisogna venire. A-Shariari Bannne Abhyaas Karenghi Kitana Kertetè ho Check Karo Kitana Abhyaas Kertetè ho Abhi Dousari Shri Mat Shri Mat Rhoz Kamsa Kamsa Rhoz Ego Ghanda Acche se Atmik Siti Ka Abhyaas Hoana Chhae Kuchhi Bhi Ho Jai Kitane Bhi Bhezi Ho Ek Ghhanda Atmik Siti Woh Bhi Sab Ko Lekar Nih A-Pne A-Pne Samay Par Sab Sab Ki Rah Mad Dekho Ek Minit Karo Dous Minit Karo Yaa Ek Ghanta Karo Adha Ghanta Karo Adha Minit Karo Rheise Karo Pura Ek Ghanta Minit Atma Minit 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 Per farlo. Per farlo. Per farlo. Per farlo. Aci Aci, Swayam Se Bate Kar, Swayam Koo Perfect Banana Hai, Gita Hai Mata O Mata, Jeevan Ki Data, Umshanti. Shiv Bhagwan Vach, Sirf Bhagwan Vach Kehne Se, Manushya Kuch Nahi Samaj Sakinge, Naam Zarur Lena Padta Hai, Gita Sunanee Waale, Jobhi Hai, Vah Kehte Hai, Krushna Bhagwan Vach, Vah Past Me Ho Goye Hai, Samaşite Hai, Sari Krushna Aya Tha, Or Gita Sunanee Thi, Vah Rajyog Sikhaaya Tha, Ab Jho Past Ho Gaya, Vah Phir Present Zarur Ho Na Hai, Jho Present Hai, Vah Phir Past Ho Na Hai, Jho Past Ho Goye Ga, Uusko Kehenge Bheat Goye, Tau Ab Shiv Baba Aya Hai, Zarur Ho Kar Gaya Hai, Shiv Bhagwan Vach, Jho Oonch Te Oonch Hai, Vah Sab Ka Baap Hai, Jisko Sarv Shakti Maan Kaha Jata Hai, Vah Bait Samjhate Hai, Tum Unke Bacche Shiv Shiv Shakti Aho, Shiv Shakti Ki Mahima Gheet Me Suneena, Shiv Shakti Jagat Amba Ho Kar Goye Hai, Jiska Yeho Yadigar Hai, Ho Kar Goye Hai, Phir Aane Hai, Zarur, Jaisen Sati Yuga Past Hoa, Ab Kaliyuga Hai, Phir Sati Yuga Aane Waala Hai, Abhi Hai, Purani Duniya, Aur Nai Duniya Ka Sangam, Zarur, Nai Duniya Ho Kar Gai Hai, Ab Purani Duniya Hai, Jho Sati Yuga Past Hoa Hai, Phir Bhavishya Mai Aana Hai, Yoha Samjhaki Baat Hai, Ghyan Hai Hai, Ghyan Hai Hai, Ghyan Hai, Vah Hai, Bhakti, Yoha Hai, Ghyan, Suryashti Ka Chakra Kaisi Firta Hai, Vah Samjhna Hai, Unko Samajhne Bighar Manushya Kuchy Bhi Samajh Nahi Sakta Hai, Bocche, Tum Aparna Chakra Dekho, Tumhara Chakra Kaisi Firta Hai, Sare Kalp Me, Chintan Karo, Brahma Ko Toh Pata Hai, Us Ka Chakra, Kya Tum Aparna Chakra Kau Jantai Hoon? Brahma Sati Yuga Me, Pahela Vishwa Maharajan Bana, Toh Agle Janam Me, Kya Banega? Abhyas Hai, Tumhye? Abhyas Hai, Tumhye? Uske Agle Janam Me, Kya Banega? Tretah Me, Brahma Ko, Kya Badh Milega? Pata Hai? Dwaapar Me, Kaha Kaha Se, Kis Kis Dharam Se, Kya Kya Ban Kar Aayega? Pata Hai? Tumhara Abhyas Hai, Tumhye? Tumhye? Tum Kya Banoga? Kya Hai Abhyas? Kytne Janam Raja Banoga? Kytne Janam Sahukar Banoga? Hai Abhyas? Abhyas Kero Chintan Keroge? Toh Pata Chalega? Koyi Kehta Hai, Lovkik Me, Hemare Paas Kytna Dhan Hai, Kya Hemare Saat Generation, Bait Kar Khaa Sakti Hai, Tumhara Paas Kytna Gyan Dhan Hai, Tumhye? Kytne Janam Bait Kar, Kytne Janam Bait Kar, Raja Ya Sahukar Ban Kar, Khaa Sakti Hai, Kytne Janam Bait Kar, 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 aci madadamme aci madadamana kia hai kiddo aci madadam per givenko aci madadamad bannam sungam ki given hai moch pad prav ta karne ke li eik-eik segund kiemuti hai valuable hai a'i apne chakra ko jano che ci sono i nostri amici ma anche il karma stesso. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 e anche se ti senti un paese, e anche se ti senti una razzola, e poi tu hai capito di rama. E' la cosa che ti senti. La prima cosa è una grande competizione, rama e la maya. Dice, qualcuno in cui è qualcuno, e qualcuno in cui è qualcuno che capisce il cuore. E qualcuno che capisce il cuore, qualcuno in cui è qualcuno, e ci sono tutti i ragazzi and you who are the master, the master, the master of the master, the master of the master. The three are very big. There is a mind to keep in mind. The mind to understand the mind to understand the world of the master of the master. Do you understand the words? a 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 simple sentence that in the world one 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 a a a one a a tu non riesci a qui. Quindi, come tu non riesci a conoscere con la mente? Tu riesci a conoscere? Non riesci a conoscere? Quindi, come si riesci a conoscere con la mente? In un'unico, in cui non riesci a conoscere? come se dici il manmat? Come se sei il manmat? Come se ti accepto che sei il manmat o sei il manmat? Semi capireci. Do you understand? Per esempio, tu ti diciamo che, come si siamo il manmat, come se sei il manmat? Il manmat significa che ci sta stare. Il manmat ha la mano, ha l'è il manmat. se si 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 tu siavoеле peribiti brahmi становi vivo esizzati ci sono le mangio il qu yine Come si dice, come si vedi a sremmat? Si vedi a sremmat, come si vedi a sremmat? Si vedi a sremmat, si vedi a sremmat? E' lo stesso? Quali il lavoro? Si vedi a sremmat, se vedi a sremmat, tu m'apatee tuavi. Vachandhyan mei rakhna, tumei cahar se, aardh se, bárraghante yoc ki zhururute hai. 4 maj stak. Chyokhi sremmat toiretti hai na, barche yaha ekk bhi pavan nehi hai, ekk bhi. Mi sono anche in questo modo, in questo modo, in questo modo, in questo modo, io sono solo, l'atma, come tu parama-atma, l'upavano. ma che ci sono tutti i sottotitoli per mantenere la visione per questo motivo non è facile 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 la visione non è facile l'atipatit. Maapatit, maapatit, lo guarda per il parma. Entendete? Chi è tu? Ti chèk. Ti chèk. Ti chèk. Ti chèk. si viene a la mente e si fa fare un canale. Tu diventa una volta più a un po' di più. Tu diventa una volta più a un po' di più. Nessere a tenere a tenere. Patit e paavan. Simple bhebe. Non parmi, non parmi, non parmi. Non parmi, non parmi. Simple cose. Entendete questo? Se capisci, entriamo. Pape se dice, tu брат o God, e le ripetereンド a creare i allopunti e d singlemen, c'è la creare di acabade. C'è la creare della creare dei swingsi? Il B timely dice, Dio 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 D Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 qualcuno è qui, Brahma v'è qui e tu chiedi, «Suscoli, dei bisogni di questo». Poi con il Brahma, «Edo questo il suo padre?» Poi con il suo padre. «Suscoli, di questo, ci sono gli altri». Brahma v'è anche dire, «Suscoli, sono venuto». Mi piacciono anche questo, che non ti andrei ancora a me, messe a Shri Matta, a Shri Matta. Quali sia un servo, quali anche un lavoro, solo una domanda, se va dene vale prati nidhi ko kariya karta ko shri mat hai ya manmat hai was itni si baat pochna isaap clear kiunki bachche tum manmat par bhoat kuch kie hai doonho yugann tamar e upar ame zimnehwaar nai doonho dhu me nenek ahaa karnie ke liye tum kisi orke prbhau mein a gaye tumhare didi dadi ke inke un ke aur kia tumne kuch bhi warishto ke inke unke Prabhav me e a car C'è tu? Bhoja tu m'è Her atma co adhikar hai Poochne ka Que ye shrimat anusar hai kia Her kisi co adhikar hai Tumhè bojan per Koi namak bhi parose na extra Poochou ye shrimat hai kia Sab ki akal thikane aayegi Shrimat ke Ek hi thikane pere akal ko mohachana hai Shrimat ka thikana At post shrimat Tehseel shrimat District shrimat State country shrimat Pin code Zero 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 Is thikane per pahuncha na hai Her kisi ke buddhi ko bhi Or her kisi ko bhi Shrimat se hi vishwakalyan ho ga Dhyan me rakhna Tumhare yogbal se Tumhare yogbal se Tumhare gyan se Vishwakalyan nahi ho ga Shrimat se hi ho ga Poochou sawaal Koi kuch bhi kuch bhi Kehye ga Kehne do Par tumhe bhi to Mene sotr diya hai Poochne ka Shrimat hai kya Bhal gusse hai Or agar gusse hai To me re paas Gusse hai Aisse utar dun ga na Uska Ki akal thikane aayegi Gusse aaya To Har baat mein poochou Shrimat hai kya Sab thik ho jayega Sambh ki baat hai Jho samajte hai O paate hai Baqi Khoh dhe te hai Slih vachche Shrimat ko sada aage rakhna Tumhare man mein bhi Khooi karma aaye Ye karna aaye Chik kero aapne se Ye shrimat hai Kya karne ki Tumhare mukh mein Khooi bhol aaye Khi ye bholna hai Chik kero Aisse bhol Yeh bhol Bholne ki shrimat hai Kya Vicharou ke liye bhi Shrimat laga Dhrushti vritti Ke liye bhi Shrimat laga Eka hi Masheen Shrimat Sab thik Vritti thik Man thik Dhrushti thik Bol thik Karam thik Tum thik thak Parivar thik Vishwa thik Eek hi Chiz Shrimat Khoi bhi ho Poochna Shrimat hai kya Bada Bada namrata Bada namrata Se Or Piyar Se Poochna Har Baat Me Bada namrata Bada namrata Bada namrata Bada namrata Bada namrata Bada namrata Shrimat hai kya Samajh ki baat hai Bada Bada Shrimat ko poora frame karke deta hai Adha adhura nini deta kbhi Pura frame bana ke deta hai Or aisei frame hotei Shrimat ki Palan karay na Toh ki sundar frame lagti hai Karmo ki Har vakt poochna Shrimat hai ye Dhyan mein rakhna Abhi dhekhte hai Kaisi tumhari maya Manmat par chalti hai Kisii aur ki maya Kaisi manmat par chalti Aur chalati hai Dekhe toh sahih abhi Dekhe toh sahih Aar bhi toh achhi baat hai Bhal Shrimat liye unho ne Par Shrimat pooch rhe ho Kuchh gali toh nahi dhe rhe ho na Ietna mahan shabda mukh me ucchar Ache baat hai Uthni praptiya bhi ho ga Shrimat shabda bholne se Uthna jamaabhi ho ga Toh achhi baat hai na poochna Ghadi ghadi poochou Har baat ke liye poochou Aur koi naraaz ho Toh mujhe bata Mäi wethau Dekhte hai Phrir Naraaz Brahma se aur maya se Kaisi razi ho ta hai Hathoda maar ke Dekhye toh se Purs pooch na Shrimat hai Bada mazidar kele Mazidar kele Abhi aap dhekhna Manmat parmat wale Chup rhenne ki Khoishish karengi Chup rhenge ho Bolengi nahi Chup rhenge Aur Shrimat wale Aur khule dil se Batae karengi Tum bhi khuleo ge Aur khilo ge Abhi manmat parmat wale Khoishish kar Sukh kar biej Bane ga Aur vaapis Naya vruk shayega Sameh jayega Ye toh pool khil gaya Us kali ka biej Bana Abhi kab pani milega Kab khad milega Kab mausam achcha Hooga Kab amkurit honge Kab ugayenge Kab patyayenge Kab wapis Phool aayenge Tehniyo par Sameh jayega Dekhna abhi Shri Mat Bhakt Bhagwaan ko Bulaate hai Toh zarur Bhagwaan Ek Hona chahi Bhakt Aneek hai Shri Bhagwaan Vach Mein Shri Bhagwaan Tum Baccho ko Rajyog Or Surişti Chakra Ka Gyan Samjhata Hoon Arthat Ab Tumhari Atma Ko Surişti Chakra Ka Gyan Hai Jays Jayse Mujh Mujh Bap ko Surişti Ke Chakra Ka Gyan Hai io sono venuto a te per te è il forma di avere il corpo che si è diventato si è diventato tra le persone di vivere qualcuno si è diventato bene a messa con le 5 persone che si liberate da jail io sono un'esplice io sono un'esplice che ora sono in questo modo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info www.mesmerism.info Confirma, se non lo faccio, quindi non sei un'illante. Quindi io posso farlo a te la mente, quindi se si è il risultato? Maia si è inizia, non è inizia. Quali che si è il risultato di essere? Se non è il risultato di essere il risultato, se si è il risultato. si sanno non sanno, non conoscevamo, non conosci nessuno, si a te viene. Si dice il univerzio, la tua stai l'anca benissimo, si pensi il un universo di un sviluppo, che c'è un primo morgo, e conosci il suo raiamento e non conosciuto, Si conosci e chi mi hanno detto che non ci sono, non ci sono. Sabe che vorrei dire che tu hai fatto, tu hai fatto, tu hai fatto, tu hai fatto, allora ora mi dirò che tu non sei capace per farlo, perché vuoi ragazze? si, bravo, non ti faccio il tuo pensamento, ma perché non ti faccio? La pensamento è venuta, ma è venuta così, che tu diventa diventare. Entendete? Entendete? lakshan dèkhenè kartà kartà ha messa apne karm ki t'arriif chahi d'usero kò pocchi kì kiaise bana aapko kiaise laga usko uttar do ramanusara usai ga usse uttar apikshit bhoat accha bana ma non sei, ma non sei, non sei. Basta l'acquiettale, la senta. L'acquiettale solo con l'acquiettale e non c'è. Quando tu l'acquiettale è la l'acquiettale e tu ti ti dimenti. Quindi non è la l'acquiettale. L'acquiettale è sempre bisogno di Trello, di Trello, di Tari. Toste la buona. Non si tratta di un'aggla di un'aggla, non si tratta di un'aggla. Il'aggla di un'aggla di un'aggla. E' quello che è un'aggla, che dice che cosa sia, come sempre che si tratta di un'aggla, che si tratta di un'aggla, che si tratta di un'aggla. Come si è l'aggla, non lo sai. ma non lo conosco. In questo modo, il nostro abbiamo completo che ci trovi, perché noi non ci troviamo. Babà fatte, Bàbà ha fatto, nel loro stiamo rispendo. E adesso, questi li essi vivendo. Attся in questo modo, in cui il nostro nasce, in questa volta stiamo rispendo. Che si vengono da scinti, Che si siano structure, a caso di essere esconditi, capisci Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ce quei perché a todos i pensi sono satt πολύ questo è l'attività nessun altro la parte di Bhojan 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 viene sempre a chi si può e vedere a chi si può mettere a chi si può mettere a chi si può mettere e quando a chi si può mettere a chi si può mettere tutti gli amici non è arrivato a chi non è arrivato non è arrivato non è arrivato non si parla anche il nostro obiettivo, non si vedi solo per il nostro obiettivo, ma che si vedi e prenderemo il nostro obiettivo, conoscendo il nostro sogno di l'acrata, conoscendo il nostro sogno di l'acrata, se io e io io ne ho avuto e mi mi rile mi ha dato me ha dato mi e me e mi rile perché ti preoccupi è ti preoccupi do e si di vedere sempre di insieme è no e ci vi sono più Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito 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 www.mesmerism.info Non ci fanno l'appare al tuo corpo Non ci fanno la piaccia Certo che abbiamo andato a noi Bacca ha fatto il tuo corpo Perché il tuo corpo è quello di te? Perché il tuo corpo è un corpo Nessuno le si sente la piaccia Per il tuo corpo è un corpo abhi bhi check kero tu m'baapke ho o tu m'ha re ho tu m'ha re ho e'is lì tu m'è gussà aata ko'i c'è 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 o'c'è o'c'è gali dè rà è tu m'è kuchh lagega nè na tu m'abhi tu m'baapke ho tu bura lage ne ki bata kaha aati è bura kio lage kioque tu m'baapke n'i ho tu m'amari maia ke ho abhi bhi bapke n'hi bane ho is lì tu m'ha hurt hoota hai gussà aata hai bura lageta hai tu m'c'e aise bula ho aise bata ki bachy ben saktte ho to bano bapke tu m'kartte n'hi ho tu m'a re saas bhi bap chalata hai aur tarif chahiye tu m'e aise bata hai kartamad banu izzet n'i aise bata hai tu m'are karmo ki tu m'se vishwakalyyan nahi ho saktta vachandhyan me rakhna hoi nahi saktta kitna bhi yog koro kitna bhi pryaas koro hoi nahi saktta kartaapan hai kartaapan hai kartaapan hai kyunki tumse agar vishwakalyyan hua na to kitaab lene ke lihe tum aagya hazir raho ge मैh ne kiya n'e aise bata hai isle m'e hoonene n'e dunga na drama hoonene dhega na maya hoonene dhega jab kartaapan poornatah chhout jayega tab tumse vishwakalyyan hooga tab tuk n'ehi ho saktta tum karne wale ho na hoonene n'e dunga pachan hai samaj jinnka karia hai unhye karne dho tum bas nimitta chalou tum kehtetay ho amari harishwas vishwakalyyan ke lihe kehaan se vachan hai tum tumhahare nahi to tumhari shwaas tumhari kehaan se ui batao mujhe tum merhe ho na to tumhari shwaas tumhari kehaan se ui kiske saad shabdo ka khel khel raha baap baap hai tumh shabdo me khel n'e sakti uske saad tum baba kya shwaas tumhari kya ajeeb kya shabdo is kya ui kya wishwakalyyan kya shabdo meri shabdo tuhm n'e tumhari sumaj kya kya yuki ii kata hon tum kehtae ho baba hummari jeevan wishwa kalyyan ke lihe samar pit cancionare ori livelli di cancionare se l'endain maana apman indra suti che cosa ha guardato? Mi è la mia, no? Se io ti farò la tua mente, cosa ha cambiato? Mi è la mia. Quali a te lo amici o a te lo amici? Cosa o a te lo amici? Quali a te lo amici? Cosa o a te lo amici? Cosa è la mia. Cosa può dire? è così confronto tu non sei chi sei chi è questo è tutto quando hai fatto tu non sei 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 chi sei il secondo tu non sei tu non sei tu non sei tu non sei tu hai tu non confronto tu non sei tu in cui sei Non mi chiede di dire che ci sono di loro. Ci sono di dire che ci sono di loro. Ci sono di loro, ci sono di loro. E se una cosa drama, ci sono di loro. Ci sono di loro. Ci sono di loro. Ci sono di loro. Ci sono di loro stare in una voce, Ci sono di loro odio, potenzione dalla vita. E' lato che ti ti i noci mantenga e nonеля a вас. Ci sono di loro. E' lato che ti s liked e nonisms, 查ne con la tua vita. Non ci sono errori, non ci sono errori. Kartappan Hameysha galti Chocchi chocchi Harbaat me galti Kartappan è na Ehingkar è inizia Bocchè Shikru Tum kiske ho Bhakt Bhaagvān Kolebhi Bhaagvān Eccola Bhaagvān 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 Shiv bhaagvān Vaj Mi, Shiva Bhagavan, tu m'abbaccio co Raiyog e Sureshiti Chakra ca gian semgiata ho. Arthat, ab tumhari atma ko Sureshiti Chakra ca gian hai. Giàse, mujh bap ko Sureshiti ke Chakra ca gian hai. Mi aya ho tumko sikhlan hai. Sureshiti Chakra phirna to zarur hai. Pateet se paavan banna hai. Koi to nimitta bantay hai na. Paanch vikaro rupi jail se liberate karne mai aata ho mai shiv ho joh abhi is tan mein bäthha ho tum kahing mai atma is shariir mein bäthha ho mera shariir ka naam falana hai. shiv baba shiv baba khehte hai mera nirakari shariir to hai nahi. Mujh parampita ka naam shiv hi hai. Mein parampita param atma star misal misal Mera shiv naam ek hi hai. Tum hii salig ram hum. Paranthu tumhara naam churasi churasi janmoo mei badalta raheta hai. Mera to ek hii naam hai. Mein punar janam nahi leeta houn. Gita mein jis ka naam đal diya hai. vah to pooray churasi janam leete hai. Aise nahi ki sri krushna ne gita sunai yoh badhi samshne ki baat hai. Manushya ke haath mein kuch nahi hai. Jho kuch kertai hai so parampita param atma kar te hai. Manushya ko shanti sukh de na yoh baap ka ka Amesha mahimah ek baap ki karni hai. Or koji ki mahimah hai nahi. Lakshmi naraan ki bhi mahimah hai nahi. Paranthu ráj karke gaye hai. To samaj te hai. Yeh swarga ke malik thai. Vandar to dekho vah jad chitra aur yaha chaitanya baat hai. Shiu bhagwan pujy ape hi pujari bantah hai. Nahi. Manushya yaha bhi nahi jantai ki mahimah paramatma kaha nivaas karta hum. Mere joh bach salig ram hai. Vah bhi yaha nahi jantai ki hum kaha ke rahne wale hai. bach aatma hai. paramatma ka ghar ek hi hai. Sweet home. Sirf sweet father home nahi kehengi. Abhi tum jantate ho. Nirvana dham hum hara bhi ghar hai. Vah hum hara fader hai. sirf ghar ko yad karengi to brahma ke saath yog ho gaya. Unse vikarma vinash ho nahi sakte. Bhal brahma yogi tatva yogi hai. Parantum unke vikarma vinash nahi ho sakte. Haan bhavana se karke alpakal ke liye sukha miltah hai. jitna yad karengi utna shanti milegi to bap ke te hai. unka yogi wrong hai. Tum ko yad karna hai ek bap ko. Bap ke te hai. Mujhe yad karne se tumhahare vikarma vinash ho nghe. Shri Krishna aise ke nahi sakte vah to vaykhunt ka malik hai. Vah dho dhe hi kahe ga ashariri ban shiv baba ko yad karo ya mujhe yad karo sahara madar gita ko correct karane hai. Gita khandan khandan hone karan bhagwan ki hasti gum ho gai hai. Keh dhe te hai ishvar ka koi naam roo hai nai ab naam roo karan to aatma ka bhi hai. Aatma ka naam atma hai. Vah bhi parampita param atma hai. Param arthaat supreme. oonch te oonch vah janam maran rahit hai. Avatar lete hai. Drama mein jis ka parth hai. Unmei hi pravesh karte hai. Aur us ka naam Brahma rak te hai. Brahma naam kabhi badal nahi sakta. Brahma dvara hi sthaapna karte hai. To vah sri kurushna ke tan mein thoday hi aayenge. Agar vah dúsre me aaye to bhi unka naam Brahma rakhna pade. Manush keht te hai. Dúsre koi mein kio nahi aata aray vah bhi kis ke tan me aaye. Vah aate hi hai. Gyan dene ke liye. Din prati din manush sam chate jayenge. tumhari vruddhi hooti jayegi. Avasthah badhi achsi chahi jayse drama ke actors ko maloom hoota hai. Hum ghar se stage par part bajane aaye hai. Vaisen hum atma ya shariir rupi chola lekar par bajate hai. Phir vaapis jana hai. Shariir chhodna pade ta hai. Tumhye tu khuši honi chahi hai. Darnah nahi chahi hai. Tum bhaut kamaai kar rahe ho. Shariir chhodnay wale khud bhi samaj sakti hai. Hum ne kitni kamaai ki hai. Tum samaj te ho. Jho shariir chhod kar gaye hai. Un mein se kis ka mertbha bada kahe. Falan bhaut sarwis kar te te jah kar dúsra shariir liya. In advance gaye hai. Un ka itna hi pārta tha. Phir bhi kuch na kuch gyan lene lene liye a jai ho sakta hai. Váris to ban gaye na kis ke saath hesab kitab chuk tu karna ho ga vah khlaas karne gay atma mein to gyan ke san skar hai na san skar atma mein hi rehte hai. Vah gum nahi ho sakte kaha achi jagh servis kerte ho knowledge ke san skar le gay to kuch na kuch ja kar servis kareng ge aise to nahi sab jate raheng nahi haan itna zaroor hai yog mein rahen se aayu badhti hai manars bhi bade achse chahi hai khe te hai baba aap kitne meethe ho mein bhi aap jaisa meetha banun ga hum bhi gyan saagar banen ge baap kehte hai apne ko dekhte raho mein master gyan saagar banah ho maat pita saman auror ko gyan deta ho hum hum amare se koji naraz to nahi ho ta hai shanti ko dharan kiya hai shanti humara swadhar mahena apne ko ashariari atma samajna hai dhekhna hai mere mei koji vikar to nahi hai agar koji vikar hoga to na pas ho jayenge aise aise aipne se bata karni karni padti hai yoh hai vichar sagar manthan kar apne ko perfect banana shri mat se ba ki sab asuri mat se unperfect ban jate hai hum bhi kitne unperfect te koi gund nahi tha gaate hai na mein nirgun haare mein koi gund nahi akshar kitne acche hai mahimah sari parampita paramatma ki hai guru nanak bhi unki mahimah karte to manushyo ko bhi samjhana hai yoh bhi bachye jant te kalp pehle jinka sapling laga hai vahi aayenge aur dharna karenge nahi to jayse vair muafik yane mojha hua aya aur gaya yaha to tum jantai hou hum ko knowledge full father nye jo knowledge dhi hai waha koi mein bhi nahi hai hum gupt vesh mein hai bachye baap ko bhaavna wale nahi chahiye padhne wale chahiye padhai karne wale chahiye bhaavna wale ka yaha koi kaam nahi hai bhat aayenge meera baba meera baba karte karna kya hai unka koi nye chahiye mujhe padhne wale chahiye shrimat par chalne wale chahiye samaj ki baat hai hum gupta vesh mein phir hum bhavishya mein swarga ke malik banay enge karma to sab kar rahe hai parant manushy ke karma sab vikarma ho te hai kyunki ravan ki mat par kar karte hai hum shrimat par karma kar karte hai shrimat dene dene wala hai baba baba nye samjha hai tum ho salvation army salvation army unko kaha jata hai joh 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 kiske dhubay huye bede ko yanni nao ko paar lagate hai dhukhi ko sukhi banate hai abhi tum shrimat par sab sab ka beda paar kar rahe ho balihari to shiv baba ki hai na hum to moor khat hai baap ki mat milnay se phir aur ko bhi mat dhet hai baap sammuk akar shrimat dhet hai rawan to koji chiz nahi joh aya bach shrimat ko kaha tak dhyan me rakhna hai dharan yad aya brahma bhi yaha akar khada rhe or kahe yi karo pucho shrimat hai kya yi hight hai shrimat ki shiv baba nè kaha hai kya aap hamarai adipita ho zaroor kareng aap joh kaheng basam jahn na chate aap joh kah rahe ho woh shiv baba nè kaha hai kya woh karne ki anumati shiv baba nè dhi hai kya shrimat shiv baba nè dhi hai kya yaha tak dhyaan me rakhna hai ba ki sab joshiv baba nè nahi ka sab ravan ki mati hai kabhi follow nahi karna kabhi nahi karna dhyaan me rakhna gir gira 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 jau gira 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 jau gira bach Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.